No, uso corretto di sé, lo fa meglio un giocatore di gol che uno che parte i marziali e quando dico questo siamo arrivati proprio al livello più basso, ok? E in questo motivo un giocatore di gol ti insegna proprio a fare questo movimento preciso perfino nel vesco, e addirittura nel tempo, qui fanno l'attivazione e sono ancora lì, a sezionare se stesso. Quindi ritorniamo, tutti e quattro i concetti che vanno, uno, il diaframma, continuando l'estilazione, tutte e due le braccia insieme, non questo l'amore, questo no, l'ho visto fare prima voi, non a uno, più di uno, insieme. Ogni volta che colpisci apri una porta, quando colpisci fallo con tutto il cuore. E allora vedi, basta un giocatore, non c'è bisogno di questo, ok? Prego. Grazie. 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 Grazie.